La conclusione nasce intanto dall'emozione e dal tremore con cui abbiamo iniziato questa avventura. Un'emozione dovuta appunto a questa prima ripresa come incontro, ancora in mezzo a questa pandemia che condiziona e ovviamente rende le cose molto più complesse. C'era una sfida organizzativa, chiamiamola così, e una sfida poi in merito al tema anche che a maggior ragione in questo tempo di prova assume una valenza particolare. Ecco io posso dire serenamente che sono contento ecco non solo personalmente ma perché ho sentito il clima della settimana, è sempre un clima anche partecipativo per cui anche attraverso i mezzi di comunicazione e anche l'incontro e il confronto con le persone che in presenza hanno vissuto l'esperienza, da un punto di vista organizzativo la cosa è stata superata veramente in modo egregio. Le cose hanno funzionato davvero in modo impeccabile e hanno permesso a questo nostro appuntamento e le riflessioni importanti che sono state fatte in questa settimana liturgica di essere condivise da tantissime persone. Grazie a Dio in presenza, alcune, molte, visto la situazione, ma anche tantissime attraverso i mezzi di comunicazione. E appunto anche qui dal riscontro direi hanno potuto seguire e direi partecipare in modo pieno a questa settimana. Quindi questo è già un primo traguardo raggiunto di cui dobbiamo ringraziare non soltanto il buon Dio ma anche tutta la macchina organizzativa che ha funzionato. Quindi è l'occasione anche e lo farò anche ufficialmente per ringraziare le tante persone che stanno dietro a questi momenti, a questi strumenti e che hanno lavorato davvero con professionalità e anche con accortezza, direi la giusta passione che è quello che permette a un evento come questo di non essere un evento come gli altri, ma di trasmettere anche qualcosa di più che una semplici relazioni, ma anche uno spirito, un clima ecco che mi sembra sia, ecco siamo riusciti a trasmettere. L'altro aspetto era ovviamente il tema che è lo scopo dell'incontrarsi, un tema che è diventato particolarmente significativo dopo il periodo del lockdown, del digiuno anche liturgico a cui è stata sottoposta la comunità cristiana e direi che i contributi sono stati molto importanti. Io direi a cominciare dalle parole del Santo Padre nel suo messaggio beneaugurante dell'inizio, direi che effettivamente non si è soffermato diciamo semplicemente alla sua, che pur preziosissima, vicinanza nella preghiera e con la sua benedizione, ma ha dato alcune indicazioni, direi con lo stile che gli è proprio e anche con la chiarezza e anche immediatezza che gli è proprio, invitando a una riflessione seria e importante perché è un momento delicato. Mi è sembrato di sentire nelle sue parole quasi come sottofondo l'invito che lui fa a far sì che questo tempo di prova, tempo difficile, non sia passato in vano, ecco ma al contrario sia stato un tempo in cui si è imparato tanto e questo mi sembra sia stato un filo conduttore perché tutte le relazioni sono partite da questa esperienza molto traumatica per la comunità cristiana e anche dalla consapevolezza che questa pandemia ha messo in evidenza quelle che già erano delle fragilità presenti nelle nostre comunità. È stata una riflessione che non ha soltanto rilevato quello che è la situazione ma si è anche spinta a cercare di indicare delle strade, delle provocazioni che non fossero troppo teoriche ma molto concrete, attingendo soprattutto alle potenzialità che già la comunità cristiana possiede e quindi direi ponendo le basi anche per una riflessione che deve continuare e deve declinarsi poi nell'esperienza delle nostre comunità cristiane. Quindi un bilancio direi positivo per cui ripeto non solo ringraziare il Signore ma anche direi tutti coloro che hanno contribuito a fare questo servizio che noi ci permettiamo di un servizio a tutte le chiese che sono in Italia.